Due chilometri di cavi di rete per un impianto in fibra ottica ad anello progettato per resistere a qualsiasi imprevisto e garantire il massimo funzionamento, 50 telecamere di videosorveglianza di ultima generazione e gli ultimi ritrovati tecnologici per wifi, connettività e gestione da remoto dei sistemi di illuminazione e irrigazione. Questi sono alcuni dei dati salienti dei lavori di adeguamento tecnologico allo stadio Martelli, operati da MyNet nell'ambito del restyling dell'impianto per la serie B, una dotazione che senza mezze misure può essere definita da serie A. Già lo stadio Martelli aveva un'infrastruttura ottima in precedenza ma era a singola via sia internamente che esternamente. Ci è stato chiesto di fare un revamp tecnologico, l'abbiamo progettato insieme a MyNet nel 1911 ma non solo e quindi abbiamo realizzato una rete ad anello esterna che quindi connette il Martelli al mondo esterno in un modo che sia altamente improbabile che un singolo guasto possa interrompere la connettività. Poi all'interno del Martelli ci sono ulteriori due anelli, quindi due collegamenti circolari di fibra ottica che vanno divisi per sottoservizi con vari livelli di sicurezza diversi, vanno a gestire le telecamere e vanno a gestire tutti gli automatismi, quindi il cosiddetto IoT, Internet of Things, come ad esempio i sistemi di Torre Faro. Abbiamo veramente fatto secondo noi il meglio possibile, quindi ci sentiamo proprio che ormai questo tecnologicamente è uno stadio di serie A. Noi siamo contenti di aver avviato questo progetto e averlo concluso addirittura in anticipo ma siamo ancora più felici di poter sostenere il manto a 1911. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal direttore operativo biancorosso Alessandro Raffa che ha sottolineato la celerità e la rapidità del lavoro dell'azienda che si conferma top partner della società di Vialetè.